L'esperienza di Pordenone è un'esperienza che come associazione U2 Italia ripetiamo frequentemente, in particolare ci appoggiamo a DOCA che è un'associazione a livello internazionale che coordina lo sviluppo delle estensioni dei moduli U2. Contribuire a una comunità come OCA significa poter accedere agli strumenti di OCA che consentono di avere dei moduli di altissima qualità e anche di poter usufruire di consulenze, dei massimi esperti a livello mondiale di U2. Poi l'altro è ovviamente quello che è alla base della filosofia open source, cioè ovviamente più persone, più occhi guardano il mio codice e minori saranno i bug contenuti all'interno dello stesso. Un altro degli aspetti positivi nel prendere parte a questo tipo di eventi è quello di entrare maggiormente in empatia con le persone con cui solitamente lavori in modo virtuale, quindi ad esempio su GitHub. Hai modo di conoscere umanamente queste persone e quindi di relazionarti in modo più empatico, stringere anche delle amicizie e far sì che le future collaborazioni saranno sicuramente più proficue. Quindi questo diciamo è la base della collaborazione. Cercare di far confluire tutte le energie in un'unica direzione. Grazie per la visione! Grazie a tutti!